ciao ragazzi bentornati sul mio canale zoo papagalli vi ricordate del progetto voliera a prova di quattro stagioni ecco il secondo video del progetto vi lascerò il link in descrizione per quelli che non hanno visto la prima parte questa è la seconda parte questa è la griglia metallica che ho saldato su per il cambio d'aria la porta come vi avevo detto questa vetrata qui apparteneva a una vecchia tabaccheria che ho riciclato qui davanti ho messo una griglia per la finestra e ecco di nuovo la vetrata che è bellissima in un vetro di cristallo ecco la porta con le chiave tutto adesso entriamo dentro e vediamo scusate per il materiale interno ma non ho ancora finito la griglia che vi avevo fatto vedere fuori eccola qui dentro ancora per il cambio d'aria la vetrata davanti eccola qui molto bello il finestrino che poi durante l'inverno lo chiuderò con un pannello l'estate invece ci metterò semplicemente l'aria di fine e sopra infine manca il tetto il tetto è semplice perché ci metterò due pannelli lunghi due metri e mezzo che riesce a coprire benissimo il tetto senza problema eccola qui la panoramica del progetto se avete delle domande dei dubbi dei suggerimenti da farmi fatemelo sapere qui nei commenti un'ultima cosa vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i nuovi video e gli aggiornamenti grazie mille e buona visione ciao ciao alla prossima al progetto finito farò un altro video con dentro i papagani ciao ciao